Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Oggi parleremo di rolling, lo strumento principe per la modifica della posizione di un unico taglio all'interno della timeline. Prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare, quindi il rolling all'interno della edit page. Oggi parliamo di montaggio senza scarto. Abbiamo già parlato di questo strumento quando abbiamo affrontato la cut page. Oggi lo vedremo all'interno della edit page. Lo strumento di montaggio senza scarto, anche meglio conosciuto come rolling, ti permette di andare a modificare unicamente la posizione di un taglio presente in timeline senza andare a toccare nessun altro taglio presente. Quindi a differenza del ripple dove vado sia a modificare un taglio ma accorciando una clip o allungando una clip vado a modificare la posizione di tutti gli altri tagli che si trovano a destra, con il rolling io non toccherò nessun altro taglio. Quindi se ho tutta la tempistica sui tagli fissata in timeline con le battute musicali eccetera, queste non verranno toccate. Quindi è uno strumento perfetto per andare a rifinire e ritoccare solamente alcune parti del montaggio. Vediamo come si utilizza all'interno della edit page. È tutto molto semplice. Lo strumento di rolling è indipendente dal tipo di edit mode che sto usando quindi posso benissimo utilizzare il selection mode. Mi posiziono su un punto di taglio ad esempio questo e come puoi vedere l'icona ha cambiato forma. Questa forma è l'indicatore del rolling che è diverso da questo indicatore che equivale come abbiamo già visto al ripple che sono due strumenti completamente diversi anche se sono vicini. Perché se io clicco con il rolling sul taglio vengono accesi entrambi i margini delle due clip. Vuol dire che se io clicco e trascino verso destra o verso sinistra verranno spostati marchine e mark out delle due clip in modo tale che la durata complessiva del montaggio assolutamente non cambia ma cambia solamente il punto di taglio. Quindi se mi sposto verso destra io sto ad esempio in questo caso allungando di 10 frame la clip di sinistra e accorciando di 10 frame la clip di destra. Continuo a spostarmi e come potete vedere mi cambiano anche chiaramente i punti di attacco e di stacco. Quello rettangolo bordato in bianco che trovo immediatamente a cavallo del taglio è un rettangolo molto ma molto utile e identifica le maniglie ossia i pezzi di clip sorgente che ho ancora disponibile per poter spostare il taglio. Cioè io posso arrivare ad esempio a questo punto di margine qua oltre non posso andare perché la clip di sinistra non ha più materiale girato disponibile. Quindi io posso capire fin dove mi posso spingere con il taglio e posso lavorare unicamente dentro questo intervallo. Ma la cosa importante è che voi abbiate delle maniglie perché se io vado su quest'altro taglio e comincio a spostarlo come vedete io qui ho impostato un marchino e mark out che equivalgono proprio all'inizio e alla fine delle clip e quindi non ho margine di spostamento. Questo taglio è completamente bloccato infatti è identificato anche in rosso. Quindi quando facciamo il montaggio provvisorio mi raccomando prendiamo sempre i marchini e mark out non coincidenti con il primo e l'ultimo frame di ogni clip. Ritorniamo sulla taglio principale c'è un altro modo più preciso forse per spostare il punto di taglio è utilizzare i tasti virgola e punto che sono gli stessi che abbiamo utilizzato per quanto riguarda la modifica del punto di ripple. Quindi tasto virgola torno indietro di un frame e il tasto punto vado avanti di un frame. Se ci piace lavorare invece in modalità JKL andiamo ad accendere il dynamic trim mi cambia il colore dell'indicatore del tempo corrente e ora tenendo premuto il tasto K e andando avanti col tasto L vado avanti di un fotogramma oppure torno indietro di un fotogramma. Disabilitiamo il dynamic trim. Lo svantaggio di queste modalità con gli shortcut è che perdo visibilità chiaramente delle maniglie disponibili. Come abbiamo già visto il ripple si attiva cliccando su una clip o cliccando sull'altra quindi si accende solamente uno dei due margini del taglio mentre se clicco con il rolling si accendono tutte e due. quando si accendono entrambi sono in modalità rolling. Posso switchare velocemente tra le due modalità di ripple e il rolling utilizzando lo shortcut U quindi cliccando su U vado prima in un ripple a destra poi in un ripple a sinistra e poi nel rolling. Quindi un modo molto veloce per cambiare modalità di editing nel punto di taglio. Quindi concludendo questo tutorial semplice ma che presenta uno strumento veramente utile per chi deve fare dei ritocchi al montaggio pensate semplicemente a una piccola modifica che dovete fare proprio alla fine prima dell'esportazione e non volete fare danni a tutto il montaggio che non è interessato a quella modifica ecco il rolling potrebbe essere uno degli strumenti se la modifica interessa un taglio in particolari. Se hai delle domande in merito al rolling ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per parlare di un altro strumento di rifinitura del montaggio sulla edit page.